Bentornati sul mio canale ragazzi, siamo qua oggi di nuovo con Hitman e dopo la missione dell'altra volta, una rasatura per Lenny, oggi andiamo a fare fine della strada Come procede dottore? Come sta il nostro gioiello? È esattamente questo signore, un vero gioiello, l'abbiamo esaminata Le sue cellule sono potenziate da un isotopo presente nella collana È come se la ringiovanisse Con il giusto allenamento potrebbe diventare più forte o più veloce di qualsiasi uomo Ma quando viene rimossa, perde le forze È più che perfetta Ecco la ragione per cui l'agenzia la voleva così tanto Tombola! Lenny, Lenny è stato rapito Cosa? Chi cazzo osa mettersi contro di me? È un fottuto scherzo! Porca traia! Chiama Jade Sì ma vecchio, stai molto calmo, sei sempre agitato, sei Buongiorno Buongiorno Lei è molto molto bella, eh Siamo sinceri, bomber Ecco Fantastico È per lei Sono Skirky, cosa? Ciao Laila Cosa? No! Dannazione, va bene, sto arrivando Aggancia Bellissimo Ecco qua, palle mosce Eccolo qui Ti ucciderò io se non lo fai Prego Volevamo riconsegnarla subito Volevamo solo fare un po' di soldi Ultima volta Dov'è, Victoria? Non fermarti Papà mi ha detto Di lasciarla con Sanchez Dimmi dove lo trovo Infatti Africa Appena fuori città Chiedi a chiunque È la verità Organizza combattimento di notte Ok? Bene, puoi smettere di scappare Ma non so se ucciderlo Posso uscire da questa fossa? No Inizia a camminare Per favore, ti prego Vediamo un po' che armi abbiamo qua, va Ok Non ucciderò altre suole lo giù Vediamo le tutte Non sei costretto a farlo? Non piantarmi un proiettino in testa Invece sì che sono costretto Te lo giuro Ho accusato le suole Cosa dite, Bomber? Cosa ne facciamo di questo uomo? Quale arma scegliamo? Il fucilone? Il fucile da cecchino? O le classiche nostre pistone Facciamo così, va Eccolo qua Lenny, palle mosce Munizioni esaurite Bene Possiamo andare Sono soddisfatto del lavoro dell'agente 47 Perfetto ragazzi Questa missione è già bella che è terminata E ci vediamo sicuramente Alla prossima Bella li Bomber Ciao Ciao